Musica Cari telespettatori ben ritrovati anche quest'oggi con noi e con il nostro ospite. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio l'architetto Massimo Calzavara, bravissimo, benissimo, ben arrivato. Mi chiamo Cavazzana, sbagliano tutti con Calzavara che è un antromonimo. Cavazzana, ce l'avevo scritto per oggi. Cavazzana che è tra l'altro presidente della consulta lavori pubblici urbanistica del Lanci con grande competenza però anche nell'ambito del sociale. E con grande attenzione alla sanità, alle fasce deboli, insomma un passato con un curriculum molto molto ricco di esperienze maturate nell'ambito della gestione pubblica e della pubblica amministrazione. Anche attualmente rivesto un ruolo istituzionale importante come sindaco. Però noi questa volta parliamo nella sua veste di rappresentanza del Lanci, quindi dei comuni del territorio del Veneto e in genere dei comuni del nostro paese. Perché sono le entità estremamente vicine alle dinamiche e le problematiche dei cittadini e delle famiglie. E che risentono forse in primis tutte quelle che sono le varie distorsioni del sistema e le varie anomalie che si vengono a creare. Perché nel nostro paese si parla sempre di anomalie, no? Gioco forza. Allora Presidente, innanzitutto due parole, Lanci cosa fa e lei nell'ambito della sua competenza di che cosa si occupa. Quindi rinverdiamo un po' anche queste conoscenze. Lanci è una grandissima associazione a livello nazionale, raccoglie per buona parte i grandi e piccoli comuni d'Italia e attraverso Lanci andiamo a sviluppare tutta una serie di progettualità che vanno dalla valutazione delle inconvenienze che naturalmente hanno tutti i giorni le nostre piccole e grandi amministrazioni. E soprattutto siamo in dialogo costante con il governo, con il Parlamento, con i gruppi parlamentari per riuscire in qualche maniera a far presente che ci sono delle problematiche ben vive e vegete. La maggior parte dei parlamentari purtroppo non sono sindaci, anzi c'è una legge che fa di tutto perché i sindaci non entrano in Parlamento e naturalmente abbiamo quindi questa grande opportunità di avere questa struttura che è trasversale a tutti i gruppi politici che va a trattare le problematiche di tutti i giorni. Siamo in prima linea, quindi Anci fa questo a livello nazionale e naturalmente per ogni riferimento nazionale poi c'è un riferimento regionale. L'Anci Veneto è un Anci che si dà molto da fare, abbiamo un presidente che ha dato continuità a una presidente donna che è stata Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano, adesso abbiamo Mario Conte che è sindaco di Treviso che va in questi momenti per la maggiore nel senso che è riuscito in qualche maniera a ridare slancio a un ente anche a livello nazionale che per certi aspetti aveva delle difficoltà. Che tipo di rappresentanza c'è a livello nazionale? Quindi che importanza ha un Anci regionale forte, presente in certe decisioni? Quindi quali sono le decisioni più rilevanti che vi possono vedere coinvolti e che quindi conta esserci? Noi abbiamo intanto un presidente molto conosciuto anche a livello europeo, De Caro, che è sindaco di Bari che è stato rinnovato nel suo ruolo e poi all'interno abbiamo questi presidenti regionali i quali veicolano attraverso delle commissioni precostituite, ad esempio la mia è una consulta che valuta con molta attenzione la parte urbanistica e i lavori pubblici che oggi sono un dramma in termini assoluti per i costi. Dopo ne parliamo. L'elaborazione che facciamo a livello regionale va poi a livello nazionale. Io sono anche in due consulte nazionali perché raccogliamo poi queste esigenze e vengono elaborate. Abbiamo di fianco poi delle strutture tipo IFEL che sono dei propri centri studi che fanno degli approfondimenti che portano all'interno della nostra realtà dei contenuti anche superiori per certi aspetti alla ricerca che fa lo Stato e su quello poi ci confrontiamo in commissioni parlamentari, in approfondimenti ministeriali e quant'altro per riuscire a modificare norme che qualche volta vanno contro gli enti locali o ci creano tutta una serie di problemi o ci caricano di pesi che poi naturalmente si traducono in difficoltà per i comuni difficoltà per coloro che vivono all'interno delle nostre comunità e dobbiamo trovare il modo di andare a gestire queste cose molto pratiche. Dicevo prima che ahimè all'interno del Parlamento, proprio anche per come è costruito il Parlamento il più delle volte non abbiamo persone che abbiano fatto percorsi sinergici quindi una volta c'era molto più semplice trovare all'interno del Parlamento un sindaco, un consigliere della provincia un presidente della provincia e quant'altro oggi invece abbiamo per la maggior parte persone che non hanno fatto percorsi amministrativi approfonditi questo è molto grave per certi aspetti perché la sensibilità è diversa quindi ci si focalizza su alcune cose ma poi il cittadino si trova con delle difficoltà concrete che caricano sul sindaco perché poi si sa che alla fine della fiera il sindaco è il parafulmine che deve in qualche maniera risolvere i problemi locali. Ecco voi vi relazionate anche con le parti sociali per quel che riguarda la contrattazione sociale appunto dove ci vengono poste delle istanze a favore delle categorie fragili, deboli, di chi è bisogno insomma ci sono diverse occasioni di confronto quali sono le problematiche che vi hanno portato alla luce e che vi mettono anche in gioco maggiormente? Dal punto di vista pratico noi abbiamo finestre sempre aperte e porte sempre aperte quindi la nostra collaborazione a 360 gradi dicevo che Anci non appartiene a un partito appartiene ai sindaci e i sindaci per buona parte ce ne sono anche tanti addirittura che non appartengono a nessuno nel senso che soprattutto comuni molto piccoli sono liste civiche che rifiutano addirittura di segnare con precisione se sono di qua o di là ma il bello di tutto questo è che lavorando tutti insieme abbiamo risorse da una parte e dall'altra quindi è veramente un processo democratico in cui quando ci si siede intorno al tavolo anche i soggetti terzi che possono essere più vicini all'uno o all'altro si adoperano per risolvere problematiche con le parti sociali stiamo facendo un lavoro molto approfondito cerchiamo di lavorare soprattutto in un'ottica di prospettiva costruttiva quindi quando ci si siede intorno al tavolo mai come nei tavoli di Anci tranne nel caso in cui si parli di grandi comuni e piccoli comuni che lì ogni tanto il problema esiste ma quando parliamo di tematiche di solito cerchiamo di andare a definire i punti comuni un po' di tutti per poi andare a strutturare delle proposte che siano fattibili e che soprattutto portino a risultati positivi ai nostri enti locali e che diano possibilità al cittadino di avere dei vantaggi quindi con le parti sociali ci confrontiamo, ci confrontiamo anche per dire con CGA di Mestre che ci dà dati e riusciamo a raccogliere questi dati ci rapportiamo con le associazioni dei sindacati ma ci rapportiamo anche con l'associazione dei consumatori perché sono anche questi termometri che dobbiamo tenere ben presenti sul territorio e le istituzioni classiche quindi pochi minuti fa ero con l'agenzia delle entrate e con la guardia di finanza per andare a verificare una serie di percorsi fattibili quindi è logico che tutto questo funziona se c'è tra lo Stato la sintonia ma soprattutto se la facciamo in maniera intelligente per cui il cittadino deve percepire questo come un aspetto positivo e propositivo perché se è contrario a questo non abbiamo effetto sul territorio ed è la cosa peggiore quando lo Stato rappresentato ad esempio dai sindaci o da altre istituzioni non riesce a lavorare bene insieme dando al cittadino una sensazione, una percezione di sicurezza, di certezza e anche il gusto di essere cittadino perché sa che quello che fa, che quello che paga, che quello che dà e in qualche maniera è sempre completamente bilanciato in un'ottica propositiva nel tempo Quali sono le criticità invece nell'ambito dei comuni che riscontrate maggiormente in questo periodo? Perché sono stati diversi momenti, diversi periodi per carità quindi non sempre le stesse però adesso siamo nuovamente in un momento un po' per alcuni particolare diciamo Se dobbiamo fare un quadro diciamo di punti io metterei tre punti fondamentali il primo punto che è un punto che riguarda imprescindibilmente tutti i comuni che riguarda tutta Italia è che siamo una realtà italiana che sta invecchiando in maniera velocissima stiamo perdendo natalità e questo significa per i nostri comuni andare a perdere vitalità quindi questo è un grosso problema che noi poniamo come comuni ma anche a livello nazionale perché se continuano così il problema che si pone è veramente serio io ad esempio sono all'interno dell'ASA 6 di Padova nel mio distretto che è il distretto 5 sono nati quest'anno su 174 mila persone 1.009 bambini e sono morte 2.170 persone abbiamo un indice di vecchiaio del 215% quindi il primo problema che si pone... Forse il più alto in assoluto Il più grande in assoluto, siamo i più vecchi in termini assoluti quindi il problema dove sta? Primo, dobbiamo capire qual è la prospettiva temporale la prima prospettiva temporale è che se noi continuiamo a perdere in maniera così evidente popolazione i nostri comuni saranno immancabilmente in difficoltà e soprattutto c'è il secondo indice, un indice che è imprescindibile che è l'aumento della vecchiaia quindi avremo dei comuni con persone molto anziane, con problemi che fino ai 62-64 anni vivono bene dai 62-64 anni si continua a vivere, si arriva anche agli 84 anni però il problema è che ci sono 10 anni dove esplode in maniera significativa anche la spesa sanitaria e la necessità di accudire questi anziani Peraltro questi comuni già esistono perché noi stendiamo in certe zone aree di montagna o più piccoli comuni non sono così appetibili e quindi ce ne sono molti anziani ci scrive un teraspettatore o teraspettatrice ho letto che con il PNRR i comuni hanno assunto un ruolo importante ma non ho capito il motivo forse perché vengono destinati importanti fondi e dopo questo ci butta bomba sull'altra tematica del PNRR se vuole l'affrontiamo dopo e così rispondiamo sicuramente è un tema veramente interessante no no ma lo dobbiamo affrontare, infatti dopo rispondiamo al teraspettatore però direi, allora il primo punto è questo il problema è dove vogliamo andare come nazione e quali sono i numeri il numero imprescindibile è che stiamo invecchiando tanto e il secondo aspetto fondamentale è che non abbiamo prospettiva sul lavoro perché mancano tante capacità professionali in quanto questo paese è investito molto ad esempio su certi tipi di professionalità e oggi ne mancano altre cioè noi ad esempio nella mia zona, nel mio comune mancano ragazzi che vengono impiegati nel settore del freddo nel settore della saldatura, nel settore dell'artigianato quindi elettricisti, idraulici quindi abbiamo una grande responsabilità di andare a revisionare con le risorse che abbiamo cioè con i soldati che arriveranno con il futuro che sta per arrivare di andare a strutturare un progetto a lungo termine a medio e lungo termine questo paese purtroppo non programma mai a medio e a lungo termine quindi il rischio è che se noi facciamo una proiezione matematica ci troviamo con tante persone anziane con tanti architetti, ingegneri, avvocati con pochissimi idraulici saldatori e quant'altro e quindi questo ne va della vita delle nostre aziende quindi o noi troviamo il modo di andare a giocare nel tempo una carta vincente che naturalmente è incrementare le nostre nascite incrementare persone che possono arrivare anche nel nostro territorio e che possono avere un percorso sinergico e dall'altro dobbiamo invitare diciamo tutta la nostra filiera del sapere in Germania sono maestri su questo a coprire i ruoli che purtroppo in questo momento sono ampiamente scoperte Ecco, lei ha toccato due temi caldi proprio in questo periodo perché il discorso della mancanza di personale da assumere adesso sta assumendo dei numeri è veramente fuori dalle logiche e dall'immaginazione più che poi si apre il settore dei servizi del turismo vediamo che stiamo parlando di cifre spaventose incolmabile tra l'altro il vuoto però quindi il discorso dell'occupazione si richiede occupazione qualificata e quindi lei dicendo nuove nascite e quindi ora che un nuovo nato arriva e che arriva ad essere occupato ci vogliono vent'anni quindi ci portiamo già in là e dopo l'altro i nuovi arrivi e questo è un altro capitolo nuove nascite anche la regione si è interessata per capire qual è il problema della denatalità che è legata vuoi ad aspetti senza dubbi economici e sociali poco su poco aiuto alle famiglie alle donne l'occupazione, retribuzioni basse costo della vita altissimo poi chi ha figli dice costo della vita insostenibile è una famiglia normale poi anche una denatalità legata a infertilità di coppia che è un'altra piaga sociale sta diventando veramente una piaga sociale perché risulta un problema di cui ci si rende conto a volte troppo tardi e quindi diventa un problema sanitario visto che lei si è interessata anche molto di sanità anche sotto altri vari profili questi due elementi insieme a quello dell'immigrazione che è adesso di attualità in questi giorni li affrontiamo insieme Presidente subito dopo la pubblicità quindi pochi secondi tra poco grazie a tutti